E ragazzi, come va? Io sono Fereniki E io sono Stef, e questo è GKM Tower Unite Ovvero, un gioco davvero, davvero fantastico Perché sì, avremo la possibilità di vivere totalmente in una casa Assieme a HP Jockey e Luca Esattamente, allora, praticamente Assomiglia un pochino a Gmod Però praticamente noi abbiamo questo mondo bellissimo Dove c'è una città dove ci sono tantissimi negozi Tantissime attività da fare Lavori da fare, eccetera, eccetera, eccetera E dopodiché abbiamo la nostra casa Quindi noi abbiamo questo appartamento gigantesco O villetta, secondo me è più una villetta Sì, è una villetta E ci vivremo insieme ad Espy e Luca Quindi vivremo noi quattro insieme La potremo arredare completamente Potremo fare davvero tante cose E sarà bello vedere come vivremo insieme ad Espy e Luca Me lo immagino già nella realtà come sarebbe Con Espy che ogni giorno ti brucia la cucina Fa scoppiare cose Esatto, eccetera, eccetera Quindi immaginate cosa succederà in questo gioco Finalmente siamo arrivati nella nostra nuova casetta Come state ragazzi? State bene? Benissimo Buon tanti va bene Bene Ok, ok Allora, Luca secondo me non sta benissimissimo Ma no, guardalo È piena forma, Luca Che tentare la ti sei preso, Luca? Eh, non ho messo un po' di crema solare Però sto bene Diciamo che ha risparmiato troppo sul cibo da mangiare Per comprare questa casa Vero, Luca? Eh, poverino Ti abbiamo messo in difficoltà, Luca In ogni caso Vi spiego un pochettino la situazione Ho preso tutti i vostri soldi dalla banca Avete zero in questo momento Però abbiamo una casa di lusso Ok, quindi secondo me ne valsa la pena L'unico problema A parte che è appena entrato un tizio a caso Che è, oh mio Dio Buongiorno Buongiorno Ma chi è lei? Chi è lei? Ma se ne vada, per favore Abbiamo dei vicini un po' stravaganti Non trovi? Ma avete visto che il gattino si è portato? Io non so il gattino Oh, che bello Ci ha portato un regalo Prima che il vicino venisse a salutarci È stato molto cordiale, ok? Però il tempismo non era proprio dei migliori Quindi l'ho cacciato via, devo essere sincero Ma Steph, sei un maleducato Vi volevo dire che abbiamo due problemi Ma è un bellissimo gattino Il primo problema è che tutta la casa non ha arredamenti Non abbiamo bagni Non abbiamo letti Non abbiamo la cucina Ma come c'è nulla? Cioè, come hai comprato questa casa enorme senza arredi? Ma chi è che la comprerebbe così? Fere, poi ti faccio fare un tour e mi dai ragione Ne va sola la pena È stato un super Non possiamo dormire in terra È stato un super affare Quindi dobbiamo andare in città a cercare lavoro Espi, per favore Non possiamo dormire per terra Che si fa distrarre facilmente da... Ma lui vuole dormire per terra È un criminale Dobbiamo comprarci almeno dei letti E il gabinetto per fare i nostri bisognini Quindi andremo in città a cercare lavoro Però prima di quello dobbiamo decidere Chi si becca alla camera da letto migliore Perché abbiamo solo due camere E ce n'è una grande e una straccola Mi chiudo dentro è mia Ma non si chiude La nostra Allora Mi spiace Io me la butto in questo modo Ok Ho in mente un modo per giocarci questa camera Perché fate caso Questa camera ha pure il bagno privato Ok Gli altri No, io pensavo che questo era di Luca Nel caso è questo di Esco No Fere se è nostra Questa è la camera da letto Con la super vista nella spiaggia E questo è il bagno privato Capisci? Cioè Facciamo un figurone Però non è male neanche l'altra stanza La vuoi vedere? Perché mette il parquet in bagno? A me piace molto l'altra Fere Non lo so Cioè ha pure gli scolini in mezzo Ok come ce la giochiamo? Ce la giocheremo Con un'attività in città La sceglieremo tutti insieme Quando arriviamo in città Però lì ci giocheremo La camera migliore Chi perde Si prende l'altra camera E non se ne lamenterà mai più Prima di andare in città Però vi volevo far vedere Perché questa casa È costata un sacco di soldi Ed è vuota Perché abbiamo Una piscina qui Che è bellissima Magari ci affogheremo dentro Quando saremo sempre conti Fere Ma smettila È bella disgrazia Voi Venite con me Venite con me Qua abbiamo degli scalini E c'è un'altra piscina Questa è mia Questa è mia Cosa ce ne facciamo di due piscine? Non lo so Però ce ne abbiamo Ce le dividiamo Dai È come se non bastasse l'acqua Abbiamo anche la spiaggia privata Che bellissima Ditemi che non vale i soldi Che abbiamo speso È abbastanza È bella Se ci sono gli squali Però no È bella No non credo ci sia Spero di no Spero di no Spero di no Andiamo Andiamo Forza 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 È la prima volta Che vediamo questa città E allora Qua ci dovrebbe essere l'ascensore Proviamo a prenderlo E dove ci porta? Ma ho paura degli ascensori Se rimaniamo bloccati poi No Steph Nella realtà Non ne prenderebbe uno Guarda Esatto Siamo finalmente arrivati in città Però ragazzi Non siamo dei turisti Perché ci dobbiamo sfidare Dobbiamo decidere Chi si becca Alla stanza più grande Dell'appartamento Scusi Sei pronto Steph? Lei non è stato invitato Ma perché ho un secchiello in testa? Non so chi è Ma è peggio del vicino di prima Ci sono persone un po' strane Sono tutte strane in questa città Ok Non so cos'era quella cosa che esplose In ogni caso seguitemi Dovrei sapere Dov'è il posto Dove noi ci sfideremo Ho già scelto Che tipo di sfida facciamo? Ci sfidiamo a Trivia Quindi Ci sfidiamo con dei quiz E delle domande Lo so Ferre Non siamo molto bravi Facciamo schifo Però ho valutato questo Ferre E spiegamente è peggio di noi Ah ok Allora va bene Dovrebbe funzionare come tattica Non conta se c'è anche un altro Chi fa più punti Tra di noi Si becca l'appartamento I team sono Io Ferre E Luca Ed Espi Niente Google Disgraziati Non ci provate? Ok Non vale Non vale assolutamente Allora Beh Questa è la domanda più facile del mondo Non lo so Come si vota? 1, 2, 3 Ah 1, 2, 3 Ok Ferre La sai? No Io ho premuto B Ehm Ah 2 Ok 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 Bye Quale è secondo te? Ragazzi Abbiamo sbagliato tutti Allora questa la skipiamo Non è successo nulla Era quella di riscaldamento Siamo emozionati Katamari Damasi Ma che Cos'è la Katamari Allora Vado a casaccio Anch'io Dai no Bravo Espi Che fortuna Che fortunato Allora Who is Sonic's sidekick? Che l'antagonista di Sonic No Di Sonic Io non sono un esperto Credo Oddio nemmeno io Dai ti prego Ma cosa Dimmi Sì Bravo Espi Dov'è la tua fortuna in questo momento? Ferre non la so Ok Ehm Quale paese È vicino alla Sudafrica no? Dai L'ho sbagliato tutti Il lesotto Beh ovviamente Ci abito Ferre stiamo perdendo l'appartamento Ok brava Ferre Brava Ferre che lo recuperiamo Ce ne mancano solo 400 eh E li recuperiamo Dai Ferre Dai Ferre Dai Ferre Ah Questa la sai tu La sai tu Ma cosa sta dicendo? Non ho capito Dovrebbe essere Questa Mamma mia Ho capito che mi avvi detto Austin E quindi Sbagliando ho vinto Oddio Ok ok No questa la sarò loro Questa lo sappiamo No non la sappiamo No non la sappiamo Non l'abbiamo guardato Fino a Fino a Fino a Aspetta Aiuta Eh Eh No quella Uh Bravo Espi Non ci credo Non ci credo Sì Non ci credo Chi è che vince la stanza Espi E chi è che vince la stanza Non è possibile Io adesso scappo Bene Vado a comprarmi una casa da sola Non ti voglio più come coinquilino Addio Anzi Abbiamo spaccato la famiglia Luca Luca mi volete in stanza La stanza è grande No 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 Oh 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 Non vale Non vale Steffi in cantina Così tu hai più spazio nella stanza Eh che cavolo Non è giusto Qui c'è il negozio di giocattoli Volete un giocattolo Sì assolutamente Un giocattolo Sono bellissimi Ma lo compri questo Fere Quale Oh Una paperella Fere chissà quanto costa Aspetta Ma chiedi i prezzi Scusi signore Ci puoi dire i prezzi Sa ho una figlioletta Che vorrebbe un giocattolo Non ho tua figlia Appunto Però mi vergogno di dire Che tu da adulto vuoi quello Allora Vediamo un pochettino Ma quanto costano Quei peluche Con 150 Ci escono gli scacchi Ma qua non li vuole nessuno Ma si può giocare con gli scacchi Ma costano troppo Costano Costano un sacco Ma che è più caro questo negozio Io posso Non posso Allora ragazzi Io non mi posso permettere nulla Neanche io ragazzi Mi dispiace Grazie signore È stato molto genio La prossima Metti in tasca Andiamo Ragazzi Non solo perdi Ma spendi Non posso accettare di perdere Devo giocare Lo devo fare Non posso Mettila subito No lo devo fare Lo devo fare Allora vado Quando stai scommettendo Tutto quello che ho vinto Ma come Non è la risposta al gioco Come se avessi vinto molto Anche tu Attenzione L'ultimo Ha vinto Ha vinto Ce l'hai fatta veramente Ho vinto qualcosa Ho vinto qualche soldino Oh ed eccolo qui E il nostro vaso blu E finalmente Il territorio è stato marcato Questa è la nostra stanza E voi invece Andate in questa Sto cercando di spaccargli No fare No Ci faccio la popo dentro Vai Con i pantaloni Che schifo Mi chiudo nella stanza E non ho scoperto Dannazione Ma dimmi te Se dobbiamo perdere con Espi Aspetta che le luci Me ne rimango qui dentro Bene Fai da brava Dai Ma che schifo C'abbiamo i gradini in camera Che ti vuole i gradini in camera Chi li vuole i gradini C'è roba che di notte Ti alzi Per andare in bagno E ciampi e rotoli Per tutta la casa E poi Mettere un cartello Attento ai gradini Eh beh Grazie Perché di notte Leggo i cartelli Vabbè Però Steffi Io sono molto brava Ad arredare Quindi punteremo a fare Una camera più bella Della loro No Fere Mi sembra giusto Ascolta a me Troveremo un modo Di eliminarli dalla casa Uno Lo mettiamo a vivere in piscina L'altro Nella cantina E noi ci riprendiamo Sia quella che questa Ok E spondiamo i muri E ne facciamo una gigante Anche perché poi Noi non abbiamo le finestre E loro ci hanno la vista male Cioè È un'ingiustizia costante E io resterò qua Tutto il tempo Guardatemi Così E niente In effetti forse Dovevamo concentrarci più Sui bisogni primari Ci stiamo sfidati Piuttosto che sull'indicare Esatto Esatto Vabbè È normale È normale In una casa nostra Andrebbe in questo modo Quindi non mi stupisce Ragazzi Ma dove siamo finiti Ma scusa Non dovevano essere Negli appartamenti normali Questi Io proverò a prendere L'ascensore Forza Andiamo Ma dove siamo Piano 1 Andiamo Ok Oddio Stiamo andando sotto Ragazzi Non sopra Stiamo andando sotto Cosa All'acquario di Genova Ho sempre detto Mi scatta tutto Ok Ha tutto all'acquario Come appartamento No Hai poster dei videogiochi È un cinema C'è Overwatch No Guardate Fallout C'è di tutto Guardate qua Guardate qua queste scale Che meraviglia No ma cioè Affacciatevi fuori Guarda Che spettacolo Questo giocatore Questo nostro vicino di casa Anzi All'appartamento sott'acqua Steph perché tu non ci hai comprato un appartamento Sott'acqua Ragazzi Cosa tipo 10 volte di più Ed era sempre senza arredamento Questo L'ha arredato lui Con i suoi soldi E mica era arredato così di base Scusami Steph Mi stai dicendo che se lavoriamo sodo E diventiamo ricchi Possiamo prendere questa Sì Fere Una piscina No vabbè la piscina interna Sott'acqua Che bello Ma questa è una piscina Piscina Inception Ragazzi 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 Non volevo farlo Fatemi uscire Ragazzi 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 aiuto Aiuto Si apre Possiamo andare Io non voglio andare in giro sott'acqua I pesci Oh mamma mia Guarda C'è Dori Aspetta che mi seguo Dori Vieni qua Ma senti Ho trovato Dori Veramente Cioè ma Quindi se uno sta dentro casa A guardare Ci può vedere a noi fuori Che nuotiamo quei pesci Ragazzi Lasciateci un bel like E se è la prima volta Che avete detto il nostro video Potete considerare I dati iscriviti Per non perdere i video I tuoi episodi Ciao E alla prossima Ciao 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 Grazie per la visione!